Invece il centro che vuole rappresentare l'Udc qual è? Il centro che rappresenta l'Udc è quello dei piccoli comuni, di quegli amministratori che stanno quotidianamente assieme alle persone, assieme ai loro problemi e che vivono i loro problemi. Questo è il nostro partito, è un partito che punterà fortemente sulle politiche per la famiglia e lo farà con un candidato premier, il professor Monti, che ha una grandissima credibilità internazionale. E questo è importante perché la Sardegna sta in un contesto assieme all'Italia internazionale. Non si può più pensare a una regione che viva di autosufficienza, ma è importante avere una dimensione europea. Proporremo per esempio il reddito minimo di garanzia per chi deve rinserirsi nel mondo del lavoro e proporremo tutta quella serie di agevolazioni, soprattutto per i giovani, che hanno delle idee vincenti e che non trovano spazio nel credito per realizzarle. Questa è la politica dell'Udc, la politica delle persone, dei dirigenti del partito vicino alla gente, che ascoltano e che agiscono.